Imperativo a frenare la parabola discendente per tornare alla vittoria, Colombo cambia il Pescara 5 novità ma conferma il 4-2-3-1 il Neobiec-Zuro Merola, Raffiai, Delemonaca e tutti e tre alle spalle di Vergani preferito all'Escano, prevista però una staffetta a centro campo, Giabua e rientrante Craia, difesa prima dallo squalificato Brosco, torna a titolare Boben al fianco di Grosso, potenza abbonato ai pareggi, 14 in 25 gare, Raffaele conferma la difesa a tre tra le linee, l'atteso ex Nando del Sole a ridosso di Caturano, 12 gol in campionato, davvero valore aggiunto dei Lucani, Di Grazia parte dalla panchina, partita senza storia, anche se la prima potenziale occasione in favore del Potenza sugli sviluppi di questa rimessa laterale, sempre molto pericoloso Caturano, reattivo però, plizzare il portiere Biancazzurro inquadrato Caturano, poi aumenta la pressione del Pescara, nei primi dieci minuti non era successo niente, il Pescara comincia a giocare sulle fasce, ma soprattutto sale in cattedra, Raffaele qui al tiro, non preciso, da parte del Franco Tunisino, classe 99, arrivato a titolo definitivo dalla Juventus, la verticalizzazione di Giabua, quindi Raffaele, il movimento di Vergani che entra in area, il pallone tra palo e portiere, 1 a 0 Pescara. Siamo giunti al sedicesimo minuto nel corso del primo tempo, la sblocca l'11 di Alberto Colombo, questo è il quinto gol in campionato per Vergani, classe 2001, cresciuto calcisticamente nell'Inter, non segnava dall'11 dicembre dalla trasferta ai Monopoli. Bello il suo movimento, bella l'imbucata di Raffaele, il pallone tra palo e portiere, è stato freddato ma anche sorpreso, il portiere della Potenza Gasparini, classe 2002, è arrivato in prestito a Potenza dall'Udinese. Qui sbraccia Rocchi sull'attacco delle Monache, l'arbitro ravvisa un'infrazione, il primo giallo sarà pesante perché nel secondo tempo al cinquantatresimo Rocchi, classe 96, uno dei tre centrali della squadra di Raffaele, verrà espulso per doppia ammunizione, forse severa. L'ammunizione combinata al numero 21 della squadra avversaria, il Pescara continua ad attaccare, Cancellotti il suo lancio, poi il tocco di Merola, il grandestro, la posizione decentrata di Vergani che lambisce il palo della porta difesa da Gasparini. Cresce tantissimo il Pescara e comincia a creare tante occasioni, qui però ci riprova Caturano, sventato questo colpo di testa dall'attento Plizzani. In quadrato Caturano, capitano del Potenza, classe 90, 12 gol, lo scorso anno era Cesena, 10 reti all'attivo, qui sbaglia tutto il girasole, parte il pressing della Pescara. Da Merola a Vergani che entra in area, forse il pallone un po' pigro, un po' arretrato, gran recupero di Steffè, che è il vertice basso del triangolo del Potenza di Metacampo. Il triangolo di Metacampo naturalmente Steffè, ex Teramo. Poi vediamo ancora il Pescara, questa è un'azione splendida, un tocco in via nello stretto, si esaltano i giocatori del Pescara. Qui c'è l'assist bellissimo di Raffià per Vergani che colpisce Timbra, una clamorosa traversa. Dunque ad un passo dal 2-0 la formazione di Alberto Colombo, però il gol è nell'aria. Qui il recupero alto del pallone di Giambua, ancora tre migliori dopo l'ottima prestazione di Viterbo con la Monterosi. E poi il gol, il sinistro di Merola, il primo gol con la maglia del Pescara dopo il tocco di Raffià. Dunque Raffià che entra in tutte le azioni pericolose del Pescara. La prima rete con la nuova maglia per Davide Merola, classe 2000, arrivato in prestito dall'Empoli. Prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione del Pescara in Serie B. Sì, la prima parte della stagione nella Cosenza con poche soddisfazioni, a dire il vero. Per Davide Merola che lo scorso anno è stato lanciato dalla foggia di Zeman, 9 gol e 4 assist. Poi la Pescara ancora in avanti, sempre con delle monache che tra i più pericolosi si rialza. Poi la palla viene ancora recuperata, il destro di Craia dal limite, la traversa della porta di Gasparini rischia la frattura. Grandestro, davvero poteroso di Craia, classe 2000, oggi al rientro dopo la squalifica. Sempre 2-0, la potenza ci prova con scarsa convinzione, a dire il vero. Anche se qui c'è un gran recupero, un grande intervento in tecno scivolato di Cancellotti sul numero 14 Riccardi, classe 2003, mezzala della formazione ospite. Poi ancora Pescara c'è lo scambio sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, si ostacolano in grosso e crescenzi all'altezza del secondo palo. Dunque ad un passo dal 3-0 il Pescara che continua ad attaccare, siamo sempre nel primo tempo. Vediamo Raffià per Merola, c'è il movimento di Vergani, palla in profondità splendida di Merola. C'è il tocco, poteva fare decisamente meglio, Vergani con la palla che viene bloccata in due tempi. Stavo difensore Lucano Gasparini, ripetiamo ancora una volta, classe 2002 in prestito dall'Udinese. Il terzo gol del Pescara, l'avvio di ripresa ad ispirare questa azione fantastica. Ancora Raffià con un colpo di tacco e poi l'imbucata di Giabua per Marco Delle Monache che fa una cosa davvero la categoria superiore. Si porta il pallone sul destro, sterzata e Grantino che si spegne sotto l'incrocio dei pali alla sinistra del portiere Gasparini. Grandissimo gol, questo è il secondo in campionato per Marco Delle Monache che ricordiamo ha compiuto 18 anni proprio due giorni fa, lo scorso 3 febbraio. 3 a 0 Pescara, insomma partita in discesa, un Pescara che convince, gioca e convince, soprattutto i tifosi sono estasiati, pochi tifosi in realtà presenti all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Un poveriggio comunque molto freddo caratterizzato dal forte vento. Qui vediamo, ci prova ancora la formazione di Biancazzurra, non è irreprensibile nel tocco finale Crescensi per il suo compagno di squadra, appunto Delle Monache che si era proposto. L'arbitro intanto, proprio su quest'azione, fa concludere appunto l'azione stessa e ammonisce per la seconda volta Rocchi per questo fallo che era stato commesso dal difensore Lucano a centrocampo ai danni di Vergani. Dunque potenza in dieci dal cinquantatresimo, poi l'Escano ex della partita, uno dei tanti ex al posto proprio di Edoardo Vergani che aveva sbloccato il punteggio al sedicesimo. Siamo sempre sul 3-0 per Biancazzurra e qui un'opportunità per Caturano che fa tutto bene, o meglio, aggira il portiere e poi conclude la palla respinta da Milani e poi non riesce incredibilmente a inguadrare lo specchio della porta pescarese. Milani che aveva preso il posto da qualche istante, da qualche minuto di Crescensi. Poi ancora la formazione Biancazzurra con Delle Mona che elude l'intervento di Girasole ma poi apre troppo il compasso e dunque sfiora la doppietta personale. Sarebbe stata la prima doppietta in una partita di Serie C per il classe 2005. Palmiero è entrato in corso d'opera, spredito il pallone in profondità per Cancellotti e poi il cross ritroso, il controllo e il sinistro di Lescano. 4-0 per Scara, Lescano che torna a segnare dopo diversi mesi di giuno, più di due, dallo scorso 30 novembre, trasferta di Francavila Fontana. Chiede scusa al pubblico per tutto quello che è accaduto in queste settimane, un gesto apprezzabilissimo dunque per l'Escano. Il nono gol in questa stagione, Pescara 4-0, c'è stato l'assist di Cancellotti che era stato messo in movimento da una bellissima verticalizzazione di Palmiero entrato in corso d'opera. Dunque 4-0 e Pescara ma non è finita, inquadrati i tifosi del Club Rangers, i tifosi della Curva Nord, tra l'altro Colombo si giocava tanto in questa partita, però rinsalda la sua posizione in panchina con questo 5-0 davvero che non ammette repliche, ci prova l'Escano. E poi il tentativo che va a buon fine di Davide Merola nel finale dunque. Il quinto gol del Pescara con la doppietta dell'ex giocatore del Foggia, prima partita con la nuova maglia, subito due gol, insomma di meglio non poteva sperare il giocatore con la maglia numero 30. Ecco qui rivediamo l'azione, il sinistro di Descano la rispinta e poi il sinistro, il mancino di giustezza, di grande qualità di Davide Merola, ripetiamo, cresciuto nell'Inter e poi passato, di proprietà è passato all'Empoli, un giocatore infatti di proprietà del Club Toscano, lo scorso anno, quest'anno, a prima parte un'esperienza non proprio esaltante in Serie B con la maglia del Cosezza. Non è finita perché il Pescara diverte e si diverte, qui manca il sesto gol a l'Escano che prova a piazzare la palla, è stato bravo però nella circostanza Gasparini con il piede sinistro a respingere, ancora la formazione biancazzura, con Cupone, entrato in corso d'opera, Cupone, altro ex della Contesa, lo scorso anno, 8 gol con la maglia del Potenza da gennaio a giugno, un contributo determinante in chiave salvezza per la squadra lucana ed è finita. Dopo 4 minuti di recupero il Pescara riparte con una vittoria debordante, davvero un gran bel Pescara, ma aspettiamo le prossime partite per esprimere giudizi definitivi e perentori. Complimenti.